Da oggi anche i portatori di disabilità potranno utilizzare i mezzi pubblici facilmente. Il comune di Montesilvano farà da apripista per un progetto pilota che dovrebbe poi essere steso all'intero Abruzzo. Fino ad oggi chi ad esempio in carrozzina avesse voluto utilizzare il trasporto pubblico avrebbe dovuto sperare che il bus in arrivo fosse dotato di quelle caratteristiche tecniche come la pedana per consentire a tutti la salita. Ora invece ci si potrà prenotare tramite un'app così da attivare servizi ad hoc. Troppo spesso succedeva che passava un autobus con i gradini, la pedana non era funzionante oppure il posto era occupato da altri perché non sempre accessibilità significa fruibilità. Oggi grazie a un numero dedicato specifico e a una nuova organizzazione che la tua ha messo in campo potremmo sicuramente gioire perché ci sarà la garanzia assoluta della certezza del diritto un po' come si fa con il taxi praticamente. Le persone con disabilità potranno prenotare con estrema specialità ed arrivare a destinazione. Siamo in una fase sperimentale, la app è già attiva nel sito di TUA, le partenze potranno essere prenotate dall'8 di agosto in poi. Il sindaco di Montesilvano, Tavio De Martinis, rivendica l'istituzione dell'ufficio per i cittadini disabili. Io da anni, già da quando vice sindaco e assessore alle politiche per disabilità ho rimarcato quanto importante sia stato per il comune di Montesilvano questo ufficio. Un ufficio che voglio dirlo è fior all'occhiello non soltanto per il territorio di Montesilvano ma anche per tutta la regione, è stato più volte preso ad esempio anche da altre regioni e soprattutto Montesilvano è se non l'unico, uno dei pochi comuni ad avere un ufficio disabile. Grazie a tutti.